Nuovo Get Ready With Me della domenica. Oggi vado a pranzo dalla nonna di Fede e poi vorremmo andare a fare una passeggiata al mare al tramonto, sempre se riusciamo a organizzarci. Oggi è veramente una giornata stupenda, fuori c'è un sole pazzesco, quindi per me non andare al mare o comunque non stare al sole sarebbe proprio una giornata buttata. Quindi per ora vado a fare tipo un salito make-up, mi vesto poi easy per andare dalla nonna e poi capiamo se vado al mare passo a casa e mi cambio, perché raga il tramonto al mare secondo me grida proprio vestitino estivo. Quest'anno ancora non sono mai andata al mare a Roma nemmeno una volta, c'è né a Ostia né a Fregene né ad Anzio, quindi vorrei troppo andare. Ho fatto finta di essere abbronzata con un po' di blush e abbondando con il bronze. Cioè non lo so eh, io la vedo come tipo una ricarica di energie per affrontare la settimana, cioè la domenica vai al mare, fai il pieno di energie e poi il lunedì sei pronto per affrontare tutta la monotona settimana. Sfido a darmi torto perché ditemi se esiste qualcosa di più bello di uno spritz vista mare con il tramonto. Cioè non esiste proprio qualcosa che ti rigenera di più. Ovviamente lentiggini, penso che da qui a tutta l'estate almeno una volta a settimana le farò, quindi sto coso mi finirà. Vabbè lo ricomprerò, farò scorta. Io direi che basta così perché sennò un po' io esagero e diventa una cosa ridicola. Metto solo un po' di balsamo labbro perché tanto stiamo andando a pranzo, poi se andiamo al mare ovviamente retaccio al make-up. E adesso mi metterò questa maglia bianca semplicissima con la gonda pantaloncino di Zara proprio per fare un outfit easy e comodo. Ok, penso proprio così e la leggo dietro. Ci sta, pensavo sinceramente non mi entrasse questa gonda perché è dell'anno scorso, quindi ho avuto paura, temevo il peggio. E ora giochiamo un po' con gli accessori. Fede, argento o dorato? Argento? Ok. Facciamo una cosa romantica e mettiamo i cuoricini. Messo il ciocca è così agentato, semplicissimo, ma... Eh? Non è mutato lo spazzolino? No, è quello verde. Ma non c'è più il tappeto? È perché l'avevo usato per il mio. Così? Stai vedere da un altro. Sì. Questo qui alla fine è il look finale, super semplice e a giudicare dal tempo. Credo che del giacchetto non ce ne sia proprio bisogno minimamente qua. È da costume oggi. Alla fine ho vinto io, indovinate dove stiamo andando? Al mare. Andiamo a freggene, a fare un bello aperitivo sul mare. Che bello! Che bello!